Lui è il re dai re Si E' un potente King of Kings Un altro mostratso Cosa vuol mettere? Ah, you shall be here Combine Mh King of Kings Oh madonna, i nemici hanno di tutto Mh, meno 79 cosa mi trovo Mh King of Kings C'è una nuova Un altro Del genere di PRESIDENTE Ok, mi sembra che No su Vai Let's go no con tutti gli orchi la cometa su chi la dovrei fare sull'eroe loro su una truppo di fanteria pesante tipo guerrieri del caos così glieli squaglio gli sfidei masciotti tutta la truppa ancora meglio tipo oppure orchi neri le scelte del caos la fanteria pesante ok una rete e poi anche il ragione un ragione aspetta di essere proprio ingaggiato così sono termine non si muove però me riguardo a ne ho due di quello invece lui vediamo quante cose esilio sangue freddo scudo gli antichi convergenza cometa cometa rete ok ma un casino di poteri mazzamundi si è fortissimo e mazzamundi mazzamundi che zammiii non sono sempre la dici ok basta ma perchè mazzamundi ha i fulmini negli occhi è pieno di magia proprio cittadino muore se tu lo distruggi si vede lui che cade goffamente ma non muore lui cade goffamente e poi si apre un teletrasporto e se ne scappa non muore mai veramente? si vede l'animazione quando proviene non lo sapevo questo non muore mai mazzamundi semplicemente se ne va e lui è mazzamundi ok boh ci sono ok umrassu ora che succederà ecco qua ne finisci ma perchè questo qua? nooo nooo spero nice duck what is the rota ammettilo che vorresti essere uno di loro si è partito una cosa in viola cos'è? che bello questo linguaggio da lucertola tipo si si questo mondo è tutto si in questo mondo tutto as Allora vediamo le sue fanterie grosse Ci sono gli orchi neri tipo qua Allora vediamo le sue Mamma mia la cometa Che visto che cos'è? Ce l'ha sfogliato tutto è incredibile Un po' morto Un po' morto Un po' morto E poi aveva tutte le cose tipo vicine E' scoppiato tutto Un po' morto Sì, che c'è un po' di ruisse madonna è stupendo anche il raggio il soggetto è forte va la mia E' rotta Grimgor, dai, dai, dai Perché non v'è rotta, dai Oh, c'è andato, finalmente Gli orchi sono tutti in rotta, praticamente D'altro lato come va? C'è un senso bravo no ma tutti ero ma scappano vabbè abbiamo vinto chi manca? manca il principe ma sta fuggendo mi sono ristratto al battaglio ma chi è che manca scusa? ma questi qua sto il cannone manca ma dove? non voglio vabbè ho ormai il piacere di spararmelo ma lo devo sparare questo se no che bello c'è non ci sono Sì! Guarda, ti senti che vanno a questo! Il Mardomundi eccetera Sono 3 3 4 Lo so oh 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 Grazie a tutti